Il piano dei decolli dell'aeroporto di Malpensa è stato approvato ma senza l'ok del Piemonte. A lanciare l'allarme il Covest attraverso la sua presidente Elena Stromenger. La commissione aeroportuale di Malpensa nei giorni scorsi ha approvato lo scenario ottimale, propedeutico per la zonizzazione acustica aeroportuale. Il piano però è passato senza i voti degli esponenti piemontesi. Erano presenti, ammessi solo come uditori senza diritto di voto, i comuni di Oleggio, Pombia e Varallo Pombia, l'ARPA di Novara e la regione Piemonte. Grande assente invece la provincia di Novara. L'ingegner Baudino, funzionario del Piemonte, ha ribadito che la regione ha pienamente diritto a partecipare anche con diritto di voto, mentre l'opinione del direttore aeroportuale Bitto è negativa. Dopo tante discussioni e scontri nei vent'anni e con l'appoggio di vari pareri ministeriali, gli enti piemontesi erano stati prima ammessi e poi ridotti nuovamente a uditori senza diritto di voto. La loro presenza era sopportata. Il tutto negando il fatto che sul territorio piemontese ricadono oltre il 50 per cento dei decolli, con marcato inquinamento acustico atmosferico. Nel 2018 cade il ventennale dall'apertura di Malpensa 2000. Di battaglie ambientaliste nei due decenni se ne sono combattute diverse, aggiunge la Stromenger. Negli ultimi due anni, in piena definizione degli scenari di decollo, l'assenza della maggior parte degli enti piemontesi, in particolar modo della provincia di Novara e di alcuni comuni, ha dato libero spazio alla Commissione di arrivare alla definizione dello scenario ottimale senza ostacoli da ovesticino. Nel frattempo c'è stato un susseguirsi di incontri dei comuni lombardi con SEA, ENAC, ENAV e ARPA di Varese per affinare aspetti e procedure finalizzati a tutelare ognuno il proprio territorio. Denominate di volta in volta commissione ambientale o riunione ristretta, gli incontri mai resi pubblici hanno portato a prese di posizione codificate anche con delibere dei consigli comunali destinate ad incidere pesantemente sul territorio piemontese. Il Piemonte in quelle occasioni dove era, si chiede la presidente del Covest, che conclude, esiste un coordinamento degli enti locali novaresi sul tema Malpensa, che non viene convocato da oltre un anno.